Buongiorno e benvenuti nel mio lunedì, ovviamente ho già accompagnato i bambini a scuola che sono arrivati in orario fortunatamente e poi sono tornata a casa, ho messo un po' di più di tempo del solito perché ho dovuto parcheggiare in strada perché c'era un problema all'interno del cortile del mio condominio, quindi ho dovuto cercare parcheggio e ci ho messo un po' di più, comunque torno a casa e mi dedico al riordino del salotto e della cucina dopo il weekend devo dire che sabato ho fatto delle grandi pulizie, quindi la casa è pulita, è solamente tanto tanto disordinata comunque con due bambini piccoli è normalissimo, normalizziamo questa cosa comunque decido di, come quasi tutti i giorni, dare una passata con l'aspirapolvere al divano perché tra il gatto, i capelli di Caterina, insomma qualcuno ogni tanto ci mangia sopra, qualche briciolina quindi una bella aspirata al pavimento, al divano, una bella rimpiumacciata ai cuscini e diciamo che nel soggiorno ci siamo quasi, tolto tutte le cose di mezzo, ipad, telecomandi eccetera bene, anche il pavimento è a posto, rimettiamo a posto i cuscini e poi passiamo ovviamente alla cucina qui c'è ancora il contenitore della merenda che abbiamo fatto sabato che era stato messo in un angolino e mi sono dimenticata di svuotarlo, beh dentro c'era rimasta solo un'arancia quindi poco male perché del resto avevamo mangiato tutto ovviamente una bella pulita al tavolo che è ancora sporco dalla colazione via un po' di briciole dalle sedie e rimetto a posto la tortiera con l'ultimo pezzettino di torta rimasto e il portafrutta con le mele e le arance poi do una passata anche al bancone della cucina e anche lì il gatto ci sale tantissimo quindi lo pulisco veramente due o tre volte al giorno è incredibile poi ovviamente l'aspirapolvere bene anche sotto il tavolo perché non ho tanto tempo stamattina perché ovviamente devo anche lavorare quindi io sono abbastanza soddisfatta del risultato l'ordine c'è, la pulizia anche e la lavastoviglie mi ero dimenticata ieri sera ho fatto la lavastoviglie ma non ci stava tutto quello che avevo sporcato quindi stamattina subito svuotiamo quella fatta ieri sera e la riempiamo nuovamente con le cose che mi erano avanzate nel lavandino ogni tanto mi succede quando cucino magari qualche dolce, qualcosa in più qualche preparazione un po' più complicata sporco tante pentole e quindi non ci stanno tutte in un solo lavaggio e no, non li lavo a mano si spreca troppa acqua ecco la lavastoviglie si fa prima preferisco lasciarli lì nel lavandino e il giorno dopo rifiniranno il lavastoviglie un'altra volta quindi una passata anche al lavandino riempio le bottiglie dell'acqua metto anche la mia acqua butto la spazzatura che un giorno sì, un giorno no almeno l'umido va buttato perché sennò puzza tantissimo è una roba che proprio appena entra in casa la sento subito la puzza dell'umido quindi lo devo veramente buttare e in più, non so se vi succede anche a voi i sacchetti dell'umido ragazzi mamma mia si rompono subito quindi vanno cambiati spessissimo eccoci qua che mi metto a lavoro non guardate l'orologio perché quell'orologio lì è fermo da un po' e devo portarlo ad aggiustare ma non so dove andare anzi se avete consigli datemi di pure perché non ho idea di proprio dove andare a farlo aggiustare comunque stamattina avevo due consulenze una sull'allattamento e una sullo svezzamento non andate entrambe molto bene ma bando alle ciance ci dobbiamo preparare per andare in piscina perché oggi è lunedì ovviamente controllo che negli zaini di Tommaso e Caterina ci sia tutto l'occorrente poi mi preparo anche una busta con una merenda e i pigiami perché ragazzi io d'inverno soprattutto li rivesto col pigiama così torniamo a casa che sono già pronti eccoci qua tornati a casa dalla piscina i bambini si infilano le ciabatte perché siamo stati invitati a cena dalla nonna questa è una grande comodità dopo la cena tutti a nanna quindi io qui vi saluto ciao a tutti